ciao a tutti ho visto che ormai ero truccata dopo il tutorial che ho girato per la collaborazione dei fiori ho detto perché non farà anche un altro video e ho visto dal canale di Chiara Makeup chi ha make up comunque vi lascio il link nell'info box è un canale che ha aperto da pochissimo una ragazza carinissima passata da lei e ho visto il tag malata di rossetti allora ho detto perché non farlo, mi piace tantissimo e iniziamo subito prima domanda mi sono segnate qual è il trattamento labbra preferito? allora innanzitutto per quanto riguarda scrub e me li faccio in casa con semplicemente miele, zucchero di canna e un po' di burro cacao e in modo che ammorbidisci ancora di più il tutto lo strofino sulle labbra e faccio una leggera pressione per fare un po' di scrub e sciacquo via insomma semplicissimo, economico e efficace per quanto riguarda invece i trattamenti diciamo comprati adoro da impazzire l'ultra balm vi lascio che soprattutto in inverno mi ha salvato infatti vedete che praticamente metà è andato è praticamente un burro che va messo sulle labbra e dà un po' quell'effetto un ticcio non proprio piacevole ma vi assicuro che se avete problemi di labbra secche è allucinante questo e vi mostro anche altre due piccole cosine per i trattamenti labbra sarà che mi sono un pochino fissata uno è questo burro cacao che ho ricevuto al Cosmoproof della Natural Is Better un brand che onestamente non conoscevo è all'acido ialuronico e aloe vera vi assicuro che è un burro cacao davvero fenomenale e vorrei anche trovare altri prodotti di questa marca perché insomma se il burro cacao è così immagino anche gli altri prodotti siano abbastanza promettenti ultimo giuro che ho finito è sempre questo l'ho acquistato però al Cosmoproof è un balsamo labbra dell'Organique è fantastico perché si chiama Cherry Candies ed ha un profumo di ciliegia allucinante è infatti anche colorato però una volta che lo faccio vedere una volta che si stende non si vede assolutamente tanto è che io lo uso tantissimo anche sopra ad esempio i lip marker di Kiko questi perché comunque tendono a seccare tanto le labbra però per me hanno un'ottima tenuta e per far sì insomma non si vedono le pellicine delle labbra queste cose così sopra ci metto questo che allunga ancora di più la tenuta e me le rende morbidissime questo qua è assolutamente fantastico seconda domanda qual è il rosso che ti colpisce di più? allora premetto che io non non porto rossetti rossi perché non mi piacciono come mi stanno non so molti dicono che mi stanno bene ma tipo il rossetto rosso l'ho portato nel cioè l'ho messo nel trucco pin up se vi va vi lascio il link e avevo usato appunto lo Stay Matte Lip Cream di Essence che è veramente bello è il 04 Silky Red ve lo faccio vedere ed è questo rosso proprio un bel rosso pieno che una volta applicato rimane completamente opaco ha una buonissima tenuta e non secca eccessivamente le labbra per essere comunque una tinta comunque è veramente veramente bello solo che ecco non lo utilizzo insomma molto riferisco ai rossetti sui toni del rosa e fucsia terza domanda qual è il miglior prodotto di lusso e low cost? ah premetto che i prodotti di lusso schasseggiano diciamo che quelli più costosi che ho sono delle mini size di rossetto di agua dalla palma che mi piacciono tantissimo e ne ho ricevuti due in due profumerie distinte ah il primo lo dovevo mettere in un barattolino perché essendo delle mini mini size sono queste ve lo vedo e con il caldo tendono ad afflosciarsi e quindi mi sarebbe proprio staccata la puntina e l'ho messa qui quindi la prelago col pennellino che anzi io lo trovo anche più comodo uno è questo colore che avevo ricevuto infatti questo inverno perché è un colore prettamente invernale che è un neanche un marroncino non lo so di fine perché poi sulle labbra rimane molto molto naturale e poi questo che invece ho ricevuto l'altra settimana all'evento Diego Dalla Palma in collaborazione con Make Up The Light che è un bellissimo color corallo rossastro rosso rosso corallo sì è un pochino sembra più scuro della videocamera in realtà è un pochino più chiaro e questi rossetti sono davvero buoni perché hanno un'ottima tenuta sono molti tra tanti non seccano le labbra e penso che il loro costo si aggiri su intorno ai 20 euro insomma mentre per quanto riguarda il miglior rossetto il miglior rossetto lo costo sono assolutamente i long lasting di Essence il mio preferito è in assoluto 08 color crush che ha un bellissimo fucsia ecco io questi colori li adoro che ha questo qui che con una passata rimane molto naturale con due passate diventa un fucsia super figo è leggermente leggermente satinato cioè non è completamente opaco insomma bello bello quarta domanda sono triste questa domanda qual è il miglior rossetto mac non ho i rossetti mac ogni volta arrivo là poi dico oddio però 18 euro e ci ripenso sempre ma prima qua ce l'avrò e quello diciamo che mi ispira di più è me l'ho segnato girl about town perché appunto ha un bel fucsia pieno e prima o poi ce l'avrò quinta domanda qual è il rossetto che ti ha deluso di più in assoluto è questo rossetto kiko dove ne ho parlato anche nel video dei top e flop che ha questo bellissimo corallo che tra l'altro sta sudando perché ho le goccioline che però cioè bellissimo il colore ve l'avevo fatto anche già vedere questo qui sotto ma una volta applicato ha una durata pessima una resa ancora peggio perché fa tutte pieghettine evidenzia anche quello che non c'è insomma questo è il numero 79 di kiko questa fa una delusione sesta domanda matita labbra sì o no assolutamente sì parirà che sia dello stesso colore del rossetto non mi piacciono assolutamente gli stacchi matita scura e rossetto chiaro perché trovo che sia antiestetico rimanga anche un po' volgare ovviamente è un mio parere soprattutto su di me non mi piace proprio quindi matita sì per contornare le labbra per far sì che il prodotto non vada in giro ma assolutamente dello stesso colore del rossetto settima domanda gloss preferito in primis quello che porto adesso che è lo stay with me di essence nella colorazione 03 candy bar tra l'altro di solito io non sono un amante dei gloss perché mi dà fastidio l'effetto appiccicaticcio che questo non ha particolarmente e poi perché di solito a me non durano nulla invece questo devo dire che dura svariate ore se non ci mangio e mi piace tantissimo perché non è il classico gloss trasparente ma non so se si nota dalle labbra quanto colori ma è questo bellissimo color ciliegia sì è un rosso ciliegia veramente bello bello e mi piace tantissimo anche la mini size che trovai con la naked 2 dell'urban decay questo è molto più trasparentino ho finito il braccio vira molto di più è rosa ma rimane trasparente vedete non si nota quasi e la cosa carina di questo è che è la menta e fa un po' l'effetto labbra voluminose insomma veramente carino ultima domanda un extra io come al solito non so scegliere quindi ne ho 2 allora intanto uno dei miei rossetti preferiti non so se poi si può definire un rossetto è il double touch di Kiko questo è già il secondo che compro ed è fantastico perché a me dura veramente tutto tutto il giorno questo ha il 107 che è un colore molto molto naturale che infatti utilizzo quasi davvero tutti i giorni questo rosa che è messo sul colore sulle mie labbra naturali si uniforma quasi perfettamente e adesso si mette questo si aspetta un attimo e si mette il lucido che fa sì che aumenta insomma la tenuta qui dice 10 ore io devo dire che se non ci mangio 10 ore li tiene se ci mangio 7-8 quindi mi piace tantissimo è veramente buono e poi il colore mi piace molto magari con i saldi se lo scontassero ne prenderei anche uno di un colore un po' più particolare un altro extra è questo rossetto elf che è il non lo so perché non riesco a capire il numero che è un rossetto il tipo il mio primo rossetto sta finendo non va più ha un profumo di ciliegia allucinante ed è bellissimo non so dove smonzzarlo è un color magenta non saprei neanche come definirlo un rosa un po' scuro è veramente veramente bello poi è idratante tantissimo ha un'ottima durata non so sporcare quello sento è molto idratante ha un'ottima durata e poi è così profumato davvero davvero confortevole questo penso ce l'abbia da almeno un paio d'anni e lo uso spessissimo e penso assolutamente di ricomprarlo e niente ragazzi è finito spero di non essere dilungata troppo siete tutti invitati a fare questo tag e se vi va lasciatemi il link nei commenti perché li vedo stravolentieri questi video al prossimo video ciao ciao